Da Milano a Roma per l'agricoltura. In occasione dell'Assemblea Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, più di 100 agricoltori lombardi under 30 sono partiti alla volta della capitale. La passione per il proprio lavoro e la consapevolezza di doversi spendere in prima persona per sconfiggere la crisi del settore agricolo hanno spinto questi giovani ad affrontare un lungo viaggio in pullman per potersi poi confrontare con i propri coetanei provenienti da tutta Italia. Dalle loro parole troppela l'amarezza per le difficoltà che ogni giorno devono affrontare e la speranza che dall'Assemblea Nazionale possano uscire proposte concrete per il loro futuro. Mi aspetto quello che si raccoglie generalmente in questa occasione, cioè veramente un confronto importante non solo con tutti i ragazzi di tutte le zone d'Italia ma vivere un fermento di idee, di proposte, di energia che si percepisce sempre in questa occasione incontrando tutti i ragazzi nell'Assemblea di Giovani Impresa. Le difficoltà possono essere magari l'approccio con le banche per chi è alle prime armi e poi altre difficoltà sul lavoro più che in campo, magari in ufficio con tanta burocrazia e contabilità. Il problema del mais da noi è che il clima è cambiato parecchio, diventa sempre più complicato coltivare e riuscire a produrre e guadagnare qualcosa. Mi aspetto qualche idea nuova per poter portare avanti i progetti di Coldiretti, per seguire la filiera corta e aiutare i più giovani a integrarsi nel mondo agricolo e nelle nuove idee di Coldiretti.